Si usa anche per fare le cose Sì, è normale Però perchè c'è fruttito fuori Sì, non c'è fruttito fuori E c'è anche quello infatti Però noi... Usa un olio un po' ma non c'è un po' Che c'è fatti Usa buona Poi lei ormai è talmente esperta Che va a occhio L'acqua bollente Acqua bollente perchè? Perchè già fa da un po' da pre-coltura Perchè siccome è tutta cruda E' quello di questo qui E' una poca Una margarina Sì, una specie di margarina C'è un po' di margarina E' un po' di sale 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 E poi si impatta Però non neanche più Delizia Mi piace D'acqua Deve essere morbida Da un po' di sale Non è un po' che a partire. Non un po' che fa? può fare un'occhiata? Non è? Sì, io do te. Fui fare tutto totale. Si fai un'occhiata così, si mette qua e si fa tutta aduna, aduna, aduna e duna. Solo che l'è? No. Così, dopo quando è finito si... quando è più amare là? Sì. no, la faccia si è piangosa o una donna se fa quando una sai da casa se i figli e i loro disano e si fanno molto come beccato e si fanno molto l'inforzamento di cui la cucina è serice io sono molto più non mi piace è molto più 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 sì è molto più è molto più è molto più E' un salone! Ogni tanto mescolare e cercare anche di vestare un po' Una bella roba graffa Questa sera non li faccio a più Esperato! No, ma l'ha sempre fatto bene O lei o salone Questa è la mia Questa è la mia Grazie